Un commento sull'informativa del ministro dell'interno Piantedosi qui in aula al Senato. Il ministro Piantedosi si è mascherato dietro alla burocrazia, è stato un intervento che non ha per nulla tracciato coordinate politiche del come il governo vuole davvero affrontare seriamente con una strategia complessiva il tema dei migranti. Ha cercato di utilizzare toni burocratici per spiegare una posizione del nostro paese che in realtà evidentemente non è stata una posizione giusta innanzitutto perché ci ha allontanato da accordi con paesi importanti come quello della Francia. Quindi direi che alla prima prova di questo governo sul tema dei migranti i risultati sono stati molto deludenti e che non sono stati affrontati le questioni che poi davvero sarebbero in grado di cambiare complessivamente la strategia del paese cioè il governo dei flussi e una capacità, ripeto, di rivisitazione degli accordi europei.